salve a tutti io mi chiamo andrea nipoti e frequento il gruppo the future we make e ci frequentiamo ogni lunedì all'ajas a bologna partecipanti di questo gruppo sono fabio ramiro e silvia usiamo la stampante 3d perché costruiamo degli oggetti tridimensionali prima disegniamo il progetto al computer con il programma tick and card dopo aver usato il programma mandiamo la stampa con questi filamenti qui la stampante 3d al posto dell'inchiostro ha un filamento di plastica esistono diversi tipi di plastiche queste plastiche passano attraverso un ugello che a temperature molto elevate fa sì che la plastica si sciolga l'ugello serve inoltre per andare a disegnare e a realizzare concretamente i modelli realizzati sul computer dai nostri ragazzi questa è una macchina che ha creato mia amica andrea l'abbiamo creata noi stessi ci piace ecco costruire questi oggetti tridimensionali per esempio abbiamo costruito un portachiavi dell'ajas di bologna un portacellulare a forma di gatto per migliorare sempre di più e ci troviamo bene in questo gruppo a 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